qui vedete una regione in cui è presente un campo magnetico il campo magnetico è diretto verso l'interno del foglio su cui sto scrivendo ed è perpendicolare allo schermo ed è definito in tutti i punti quindi io ho disegnato questi tre vettori in realtà esiste in tutti i punti ogni volta che vedete una zona colorata immaginate che il campo magnetico sia in tutti i punti sia definito in tutti i punti in questo punto si trova una carica per il momento consideriamo la positiva e questa carica possiede una velocità v diretta in questa direzione nel piano in cui sto scrivendo quindi è perpendicolare al campo magnetico se applico la definizione di prodotto vettoriale scopro che la forza di Lorentz è diretta in questa direzione però se la carica fosse stata negativa la forza di Lorentz sarebbe stata diretta in direzione opposta qui vedete la medesima situazione vista da un'altra prospettiva tridimensionale la regione il campo magnetico che è perpendicolare al piano è diretto verso il basso la carica qui con una velocità perpendicolare al campo magnetico e la forza di Lorenz è questa qui il modulo della forza di Lorenz per definizione di prodotto vettoriale devo moltiplicare il modulo di v per il modulo di p per il seno dell'angolo che formano questi due vettori vediamo qualche caso particolare supponiamo che sia v che b siano diversi da zero ma sono paralleli questo significa che l'angolo che formano è o zero gradi oppure 180 gradi in entrambi i casi quel prodotto vettoriale mi dà vita a una forza pari a zero supponiamo che l'unica forza in gioco sulla carica è proprio la forza di Lorenz se la forza di Lorenz vale zero e siccome già aveva una velocità allora quella carica prosegue di moto rettilineo uniforme vi ricordate tutti il primo principio della dinamica se invece la carica è ferma dentro quella regione allora banalmente qui avete ancora una forza di Lorenz pari a zero questa volta che cosa implica questa forza totale pari a zero implica che la carica rimane inquieta rimane dove era abbiamo visto che la forza di Lorenz è perpendicolare al vettore velocità ma ci ricordiamo tutti il vettore velocità è tangente alla traiettoria pertanto la forza di Lorenz risulterà essere perpendicolare alla traiettoria e questo ha una importante conseguenza quando la forza totale che agisce su una carica è proprio la forza di Lorenz e siamo interessati al lavoro della forza di Lorenz allora immaginiamo che questa traiettoria sia descritta dalla curva gamma a e b sono gli estremi di questa traiettoria e ci interessa il lavoro della forza di Lorenz lungo quella traiettoria questa quantità qui abbiamo imparato a dargli significato abbiamo chiamato integrale di linea in questo caso essendoci qui una forza questa integrale di linea l'abbiamo chiamato lavoro e siccome la forza di Lorenz è sempre perpendicolare all'elemento di r di traiettoria allora devo fare una somma di tante quantità che sono tutte nulle e quindi il lavoro della forza di Lorenz è zero questo qui è il lavoro e quindi possiamo anche scrivere questo risultato come l'energia cinetica nel punto finale meno l'energia cinetica nel punto iniziale in altri termini la forza di Lorenz non è in grado di cambiare il modulo della velocità e che cosa può cambiare invece? può cambiare la direzione della velocità per cui la forza di Lorenz agendo su una carica sempre in modo perpendicolare devia la direzione della carica quindi da qui poi invece di proseguire lungo questa direzione si sposterà un po' qui e qui avrà un altro vettore velocità identico in lunghezza a quello precedente ma che punta in una direzione diversa nella nuova posizione la forza di Lorenz agirà ancora in modo perpendicolare e quindi provocherà ulteriormente la deflessione di questa particella e così di seguito a questo punto uno si chiede quale potrebbe essere la traiettoria di una particella che entra in un campo magnetico ed è soggetta soltanto alla forza di Lorenz il nostro libro e tanti altri libri di liceo a questo punto ci dicono la traiettoria circolare la traiettoria non solo è circolare ma essendo il modulo della velocità sempre lo stesso allora il moto sarà circolare uniforme quindi procederà con una velocità angolare costante e quindi si va a questo punto a mostrare quanto vale sia il raggio che la velocità angolare con cui questa circonferenza viene descritta e questo è un modo di procedere questa è la forza di Lorenz e per il secondo principio della dinamica è anche uguale al prodotto della massa della particella carica per l'accelerazione passo ai moduli perché diventa tutto più semplice non l'ho detto prima, scusatemi ve lo dico adesso sto considerando il caso in cui la velocità iniziale della particella è perpendicolare al campo magnetico proprio come stavo immaginando qui, va bene? per cui quando scrivo l'espressione della forza di Lorenz in questo caso l'angolo è 90 gradi e seno di 90 gradi vale 1 e quindi ho uvb il valore assoluto perché sono interessato al modulo della forza di Lorenz per quanto riguarda l'accelerazione centripeta dovreste ricordarvi che è v quadro diviso r e qui noto che una v e una v se ne vanno e quindi se risolvo rispetto a r trovo questa bellissima formula che dovete ricordarvi per cui guardate questo disegno se io ho una carica positiva mi trovo in una regione in cui il campo magnetico è entrante nel foglio se la carica parte da qui allora comincia a muoversi di moto circolare uniforme e per quello che abbiamo detto prima dovrebbe muoversi circolando secondo questa direzione r dato da questa relazione è il raggio di questa circonferenza possiamo pure determinare qual è la velocità angolare ed è semplice se ci ricordiamo che nel moto circolare uniforme la velocità angolare è legata a v e ad r da questa relazione r l'abbiamo trovato prima e quindi si arriva a quest'altra se la carica invece di essere positiva è negativa quello che accade è che questa particella circolerà in direzione opposta questo spero sia semplice da vedere allora ci sono domande? pare di no non so se preoccuparmi o essere contento comunque andiamo avanti questa è la trattazione che fa la maggior parte dei libri di liceo ma proviamo ad andare un po' più in profondità e cioè visto che conosciamo il prodotto vettoriale proviamo a rivedere il moto circolare uniforme da un altro punto di vista e cioè non so se ve l'hanno detto due anni fa ma quello che ci hanno dato come velocità angolare che sembrava uno scalare in realtà è un vettore un vettore particolare che è diretto perpendicolarmente alla circonferenza quella mostrata qui è una circonferenza vista con una prospettiva un po' predimensionale abbiamo il sistema di coordinate x y centrato nel centro della circonferenza l'asse z è perpendicolare a x y omega il vettore velocità angolare è diretto nella direzione z se il punto materiale si sposta in senso anti-orario quindi qualcuno di voi potrà notare che in questa convenzione si sta usando ancora la regola della mano destra per cui le dita si chiudono nella direzione del punto materiale e il pollice individua la direzione di omega se il punto materiale viaggia in direzione opposta allora il vettore omega punterà verso il basso la A che è mostrata qui è evidentemente l'accelerazione centripeta che punta verso il centro se la carica si trova qui l'accelerazione punta verso il centro e V è tangente in ogni punto alla circonferenza introducendo omega esistono queste due relazioni tra l'accelerazione V e omega e tra V, R e omega e più tardi quando ripasserete queste cose provate a dare senso a queste due espressioni e immaginate la particella in diverse posizioni applicate questo prodotto vettoriale e verificate che in ogni punto il prodotto vettoriale omega vettor V vi dà appunto un vettore che continua a puntare verso il centro e siccome omega e V sono vettori costanti anche il modulo di A sarà sempre lo stesso per quanto riguarda V, R e omega esiste quest'altra espressione provate a dare significato anche a quest'altra a me adesso interessa questa abbiamo detto che il moto è circolare uniforme al posto della forza di Lorenz scrivo questa espressione che già conoscevo la novità è che al posto di A l'accelerazione centripeta adesso metto questa espressione ora ci ricordiamo che il prodotto vettoriale è anticommutativo cioè se scrivo V vettor B e sono poi invece interessato a scambiare di posto V e B e scrivo B vettor V non otterrò lo stesso risultato quindi questi due risultati sono diversi e invece che cosa vale? vale questa relazione diventa l'opposto di quello precedente quindi io ho invertito il posto di V e B e quindi mi è apparso un segno meno spero sia chiaro perché e qui ora noto che ho un vettore che moltiplica vettorialmente V qui ho un altro vettore che moltiplica vettorialmente V e questi due vettori sono uguali questo significa che sono uguali meno QB e MV quindi posso scrivere questa espressione e da questa posso ricavare una relazione vettoriale su B questa relazione a me piace particolarmente e spero tra un po' piacerà anche a voi se Q è positiva il numero che moltiplica B sarà negativo per cui ω e B sono diretti in direzioni opposte se la carica è positiva se invece questa carica è negativa allora con il segno meno davanti il numero, questo scalare, diventerà positivo cioè ω e B sono diretti nella stessa direzione se la carica è negativa diamo un'occhiata a questa figura ω è diretta in questo modo e B in direzione opposta se sono diretti in direzione opposte significa che questa carica deve essere come? non so se qualcuno me lo dice in chat positiva ok guardate quest'altra situazione invece ω è diretta verso l'alto perché? perché sta ruotando ancora in direzione anti-oraria B è diretta come ω sono dirette nella stessa direzione qual è il segno di questa carica? qualcuno me lo dice in chat negativa benissimo sapendo la direzione di B e ω possiamo capire qual è il segno della carica vediamo un po' se abbiamo capito qui è mostrata una regione in cui il campo magnetico è entrante il campo magnetico esiste in tutti i punti ok? non fatemi ripetere sempre la stessa cosa state osservando una particella che ruota in questa direzione prima domanda ω come sarà diretta? qualcuno in chat può rispondere? uscente ok quindi viene verso di noi che la stiamo guardando quindi qui io disegnerei ω così quindi questa carica che segno avrà? questa carica abbiamo capito è positiva il campo magnetico è ancora entrante vediamo la particella ruotare in questa direzione e quindi ω e B come sono? qualcuno già mi ha detto com'è la carica quindi la carica è negativa bene perché hanno entrambi ω e B la stessa direzione cioè sono entrambe entranti ultimo caso B adesso è uscente ω è anch'esso uscente qual è il segno di questa carica? ancora negativa se cercate in internet camera a nebbia oppure moto di cariche in camera a nebbia ne trovate migliaia di foto di questo tipo e che cosa rappresentano? queste qui rappresentano le tracce di particelle cariche che entrano all'interno di un campo magnetico il campo magnetico immaginate sia questo qui qui avete un'altra immagine e quindi c'è una carica che entra e poi viene deviata perché la sua velocità è abbastanza alta e quindi non ha tempo di completare la traiettoria e poi invece vedete alcune spirali perché ci sono queste spirali? perché invece non vediamo delle circonferenze? e per fortuna abbiamo delle spirali e possiamo vedere il senso di rotazione possiamo determinare omega per esempio qui si vede abbastanza bene che la carica ruota in questo modo quindi se dovessi stabilire il verso della velocità angolare che cosa direi a proposito di questa spirale? è uscente o entrante? provate a rispondere? uscente ok se il campo magnetico è entrante a vista che cosa potremmo dire di questa carica? questa carica che segno ha? dite che è negativa? perché è negativa? il campo magnetico e il vettore omega hanno verso opposto ah ecco adesso vi siete corretti quindi se hanno verso opposto la carica deve essere positiva allora qui si vede subito che la carica è positiva ma cerchiamo di capire perché abbiamo delle spirali e non delle circonferenze perché se avessimo avuto una traccia a forma di circonferenza sarebbe stato complicato capire in che direzione ruota qui non si capisce se la particella sta ruotando in un verso oppure nell'altro in questa camera nebbia il primo che la propose fu Wilson è una camera che contiene un gas in uno stato particolare e quando in questa camera entra una carica interagisce con le molecole del gas dall'interazione nasce una scia che può essere fotografata questa carica compie una serie di urti con le varie molecole in ciascuno di questi urti cede una piccola parte di energia cinetica il risultato finale è che diminuisce la propria velocità quindi di urto in urto la velocità della carica diminuisce e se vi ricordate il raggio che prova a descrivere la carica dipende dalla velocità se questa velocità via via diminuisce allora la carica si appresta a descrivere una circonferenza che via via ha un raggio più piccolo e quindi invece di descrivere una circonferenza descrive una spirale fino a fermarsi grazie grazie grazie